ciao a tutti amici miei bentornati sul canale ci siamo la notte degli oscar è sempre più vicina e quindi ho pensato di registrare questo video per dirvi la classifica dei dieci film candidati nella sezione miglior film dal peggiore al migliore ovviamente è soggettiva quindi è legittimo che possiate pensarla diversamente da me anzi vi invito a farmi sapere nella sezione commenti la vostra di classifica così almeno ne possiamo discutere attendendo le premiazioni e ben sapendo che quasi al 100% l'ambita statuetta se la porterà a casa Oppenheimer di Christopher Nolan ma direi che possiamo iniziare dalla decima postazione ovviamente di questi film non starò a parlarne troppo perché di ognuno ho fatto la recensione sul canale quindi potreste trovarla comunque partendo dalla decima posizione ho scelto di inserire Past Lives esordio alla regia di Celine Song che su carta potrebbe essere veramente interessante una storia d'amore che si protrae negli anni anche se i due diretti interessati si sono allontanati hanno vissuto altre esperienze quindi nuove relazioni e se si rincontrassero dopo diverso tempo come potrebbero andare le cose ora dal Sundance sono usciti dei bellissimi film nel corso degli anni questo mi sembra che non si sforzi per niente che faccia proprio il compitino poi certo non è orribile non è un film bruttissimo però l'ho trovato decisamente mediocre e l'unica cosa che mi ha colpito è il finale non voglio fare spoiler però quando diciamo il ragazzo incontra dopo tanto tempo colei che ama che ha un'altra relazione come si mostra la reazione del nuovo compagno della stessa lì potrebbe essere tutto molto interessante il problema è che per tutta la prima e la seconda parte del film io non ho provato alcuna affezione nei confronti dei protagonisti né tantomeno mi è piaciuto come Céline Song racconta il posto in cui vivono quindi mi sarebbe piaciuto percepire un non so che di familiarità col posto con la distanza che ti rende lontano dalla persona che ami ed invece tutto questo non succede per dire su sky è uscita una serie che si chiama un amore con stefano accorsi e michaela ramazzotti che bene o male parte da un seggi da un soggetto molto similare ed è decisamente migliore rispetto a past lives che per me ci sta come il cavolo a merenda nella sezione dei miglior film agli oscar di quest'anno però stiamo a vedere non ho posto per povere creature di l'antimos che è un regista che io amo mi aspettavo tantissimo da questa nuova fatica del regista greco ed invece mi sono trovato di fronte ad un film assolutamente sufficiente con dei momenti interessanti e decisamente ben diretti però come dico sempre per me la tecnica non è tutto c'è una fantastica Emma Stone si vorrebbe parlare dell'emancipazione della donna della libertà della donna tema fondamentale soprattutto oggi come oggi il problema è che ad un certo punto avrei gradito che oltre all'emancipazione sessuale alla sacrosanta libertà sessuale venisse approfondito anche il rapporto della donna con il lavoro con altre cose che avrebbero potuto rendere quel personaggio più sfaccettato con più sfumature ed invece anche quando si parla della lettura quando si parla della politica è sempre tutto accennato per concentrarsi maggiormente sul sesso niente di male nel vedere quelle scene molto ben realizzate poi con una bella attrice ci mancherebbe gli attori sono tutti bravi anche Mark Raffalo però effettivamente dopo un po' mi sembrava quasi che Yorgos Lantimos puntasse più al hai visto ti ho messo lì l'ennesima scena di sesso per provocare piuttosto che oltre al sesso ti parlo anche delle difficoltà della donna nel mondo del lavoro nel mondo di una società patriarcale dove è difficile farsi accettare quindi avrei gradito un po' più di equilibrio ed invece il film punta dritto verso un sacro santo è obiettivo però tutto il resto perché accennarlo quindi questo non mi ha convinto così tanto poi non è certo un brutto film anzi l'unico che boccio ve lo dico già fra questi dieci film è Past Lives di cui ho parlato un attimo fa ma questa volta Yorgos Lantimos fa il film più deludente della sua carriera per quel che mi riguarda ma poi lo ribadisco trovereste la recensione sul canale. Ottavo posto metto Anatomia di una caduta di Justin Trier il vincitore della Palma d'Oro all'ultima edizione del Festival di Cannes sicuramente una pellicola evocativa incisiva la storia è riuscita a catturarmi perché praticamente si vuol parlare di un uomo che viene ritrovato morto vicino alla propria casa sperduta fra le montagne innevate scopriamo che il giorno prima aveva litigato con sua moglie ma colui che ritrova il corpo il bambino ipovedente loro figlio resterà traumatizzato e da lì si cercherà a ritroso di ricostruire quel che è successo anche con tutta una sottotrama tribunalistica dove si cercherà di ripercorrere quel che è accaduto soprattutto quando verrà fuori che marito e moglie il giorno prima avevano litigato e quindi la moglie diventerà la principale sospettata. È un film dove i dialoghi sono importantissimi dove la sceneggiatura è ben scritta dove non c'è alcun didascalismo inutile anzi molto spesso sono i silenzi a parlare la comunicazione non verbale fatemi dire quanto Sandra Hüller sia stata bravissima nei panni di Sandra ma così come tutto il resto del cast. L'unico secondo me difetto di anatomia di una caduta è la durata eccessiva perché due ore quanto durava due ore e mezzo circa 150 minuti le ho trovate fin troppo esagerate il film poteva dire tutto quel che aveva da comunicare in molto meno tempo e se c'è una cosa che a me dispiace quando ci si dilunga inutilmente per dire ci sono dei film che possono durare anche quattro ore e le continuerei a guardare ce ne sono altri in cui soffermandomi sulle dinamiche che anatomia di una caduta voleva raccontarmi sembra quasi eccessivo protrarre a lungo lo stesso discorso lo stesso anche ripercorrere cose che il film già ti ha fatto capire che già ti aveva portato a pensare ti aveva insinuato il dubbio se fosse stata lei oppure no tu ci potevi pensare quando il tutto va ad allungarsi estremamente un pochino può risultare ripetitivo poi ovviamente la tecnica è indiscutibile però a secondo questa logica io tecnicamente dirigo un film perfetto da sei ore e mezzo dove mostro la bellezza che caspita ne so di una montagna innevata di voi vabbè ma tecnicamente è ineccepibile mi servirebbe anche che oltre al cosa funzionasse il come non che non accada in anatomia di una caduta ma dopo un pochino quell'effetto anche di quell'effetto di curiosità nel cercare di capire cosa fosse accaduto quell'effetto più ansiogeno anche quel desiderio di ricollegare tutti i puntini è venuto meno perché dicevo ma quanto sta durando forse una durata più equilibrata una durata meno meno esagerata avrebbe reso il film più accattivante dal mio punto di vista poi per tanti questo non è nemmeno un problema per me sì è assolutamente un film da da vedere è comunque un buon film sicuramente dignitoso ma questo entusiasmo che lo circonda mi sembra fin troppo esagerato anzi questo così come altri titoli nella lista dei miglior film mi sembrano un pochino sopravvalutati così come è stato sopravvalutato povere creature così come è stato sopravvalutato past lives ma anche come è stato sopravvalutato un altro titolo di cui fra poco parleremo al settimo posto voglio mettere il film che presumibilmente vincerà l'edizione della notte degli oscar 2024 in tanti potresti odiarmi ma pazienza sto parlando di openheimer che ci mancherebbe è un film che mi è piaciuto c'è la recensione sul mio canale ma più ci penso e meno mi convince cioè non ho proprio la voglia di riguardarlo a differenza di altri candidati nella stessa categoria ok christopher nolan fa un lavoro certosino sulla ricostruzione scenografica proprio anche nel voler utilizzare effetti prostetici nel far esplodere bombe lo sappiamo che nolan è megalomane sotto questi punti di vista bravissimi gli attori kylian marphy che al 99 per cento vincerà però io penso anzi ripenso alla mia visione in sala molto spesso con la mole di informazioni che il film mi dava non riuscivo a stare al passo con lo scorrere della pellicola tanti nomi e cognomi tante situazioni diverse un montaggio alternato che mi portava in un altro contesto passava del tempo e nel frattempo io stavo ancora pensando a quel che il film mi aveva detto nella scena precedente non riuscivo a ricollegare tutti i puntini soprattutto poi nell'epilogo quando ci si vuole soffermare sul personaggio interpretato da robert downy jr anche lui presumibilmente vincerà ecco io ho durato fatica se c'è una cosa che mi dà fastidio è quando non riesco a godermi un film perché sto ancora pensando a quel che è successo poco prima poi lo ribadisco è un film da vedere non è certo brutto però se io penso alla filmografia di christopher nolan è uno di quelli che mi è piaciuto di meno cioè se lo mettessi a paragone con un de prestigio con la trilogia su batman con memento e chi più ne ha più ne metta ma anche con un dunkirk openheimer poi magari ad una seconda visione potrei apprezzarlo di più potrei rivalutarlo in positivo e sarò il primo a dirlo però effettivamente non ho voglia di farlo anche perché poi la durata è corposa quindi ho apprezzato determinati momenti è un film che comunque mi è piaciuto a delle situazioni evocative c'è un lavoro anche molto bello sul tema anche del dolore della morte pensiamo a quando si fa esplodere la bomba atomica e mentre openheimer viene applaudito ripensa tutte le vittime collaterali di quella devastante distruzione però ribadisco spero tanto di poterlo amare come voi in futuro quando sono andato in sala avevo aspettative altissime e il film mi è piaciuto ma rispetto a quella recensione dove già vi ricorderete che non lo esaltavo come tanti altri miei colleghi e amici adesso ho ancora meno voglia di di vederlo però è comunque un film da salvare ci mancherebbe altro quindi ho deciso di metterlo al settimo posto al sesto posto voglio mettere american fiction di cord jefferson che purtroppo è uscito solo su prime ma che è riuscito a divertirmi a intrattenermi anche a farmi riflettere perché tratta del razzismo in modo diverso dal solito c'è un bravo jeffrey wright nei panni del protagonista certo non capisco la candidatura di sterling brown come miglior attore non protagonista perché si è stato bravo ma addirittura candidarlo agli oscar mi sembra un tantino esagerato comunque il film ve lo consiglio nel caso non l'aveste visto perché praticamente si racconta la storia di questo professore scrittore monk afroamericano che ha scritto un libro che trova difficoltà nel far pubblicare perché non rispecchia quei modelli della scrittura da neri cioè praticamente anche la casa editrice fa capire che ora come ora vanno di moda quei libri che parlano magari di droga di rapper con passati turbolenti oppure di cose legate alla malavita come se i neri per forza fossero quelli e lui dice ma se io voglio scrivere un libro di narrativa tranquillo perché per forza devo parlare di droga oppure il protagonista deve essere un rapper oppure per quale motivo bisogna parlare di uccisioni di malavita di crime quindi lui per poter continuare a lavorare deve in tutti i modi scrivere un libro per come lo vogliono quelli della casa editrice e quindi lì per lì butta giù un testo che lui considera orribile e invece come lo leggono subito sono disposti a pubblicarglielo e anzi riscuoterà un successo incredibile e poi si creerà un cortocircuito perché il protagonista non ne vuole sapere di farlo pubblicare a suo nome nel frattempo dopo aver trovato uno pseudonimo lui intanto era stato contattato per far parte di una giuria a questo festival letterario al festival letterario viene presentato anche il libro che lui ha scritto sotto pseudonimo e lì si creerà una situazione interessante insomma attraverso una storia divertente anche frizzante si parla oltre a far sorridere dell'ipocrisia se vogliamo di hollywood stessa ed infatti si crea un cortocircuito interessante perché il film che critica anche se vogliamo il mondo degli oscar è stato candidato agli oscar nella sezione miglior film insomma un film molto carino poi non aspettatevi un capolavoro non durando due ore e mezzo ma in un'ora e quaranta portandosi a casa il risultato quindi american fiction è un film che mi sento di premiare mettendolo in questa posizione al quinto posto metto invece maestro di bradley cooper un film che abbiamo potuto vedere su netflix dopo un breve passaggio nelle sale che purtroppo mi sono perso che ci racconta la vita e l'ascesa al successo ma caratterizzata da gioie e dolori di leonard bernstein un importante direttore d'orchestra che è interpretato benissimo da un bradley cooper con un trucco prostetico incredibile veramente molto bravo ma come del resto tutto anche il team di attori che è stato scelto bradley cooper dopo a star is born si affaccia questa seconda regia che secondo me è inferiore da star is born ma è comunque un buon film un film che ci racconta sì il successo ma anche il dolore dove il bianco e nero fa parte anche di un bianco e nero presente nell'anima dello stesso personaggio che amava sia gli uomini che le donne che amava la sua musica ma che molto spesso si lasciava anche affascinare dalla dannazione e quindi così facendo poteva deludere la moglie poteva deludere chi più gli era vicino e secondo me bradley cooper fa un gran bel lavoro poi non vi aspettate un capolavoro ripeto secondo me maestro non era un film da oscar ma se dovessi puntualizzare questo aspetto beh la maggior parte dei film presenti quest'anno io non li avrei inseriti magari al termine di questo video vi dico quali film avrei lasciato io penso di arrivare forse a 5 per me 10 sono troppi mi piacerebbe si ritornasse ad una lista meno diluita di titoli che ci mancherebbe possono essere anche interessanti ma non da probabili vincitori di premi oscar almeno questo è il mio parere maestro è un film che vi consiglio ma che allo stesso tempo nonostante delle scene molto intense nonostante una vita interessante di un artista che ammetto non conoscevo e quindi grazie al film ho potuto scoprire non mi è sembrato così folgorante da candidarlo ai premi oscar addirittura nella sezione miglior film potevo capire miglior attore bradley cooper potevo capire determinate cose ma proprio miglior film comunque è sicuramente una pellicola che che è interessantissima da vedere e anche per me che sono distante da quel mondo della filarmonica e chi più ne ha più ne metta sono rimasto intrattenuto e coinvolto perché bradley cooper fa un buon lavoro ma star is born l'ho trovato un bellissimo film e questo è un passo forse un passo e mezzo indietro parere mio ci stiamo avvicinando al podio ma prima dobbiamo soffermarci sul quarto posto e inserisco the old over selezioni di vita che è un film diretto da alexander payne che mi ha fatto bene al cuore che mi ha fatto bene all'animo con uno straordinario paul giamatti e vi dico la verità questo video lo sto registrando prima della cerimonia degli oscar quindi non so ancora quel che accadrà se trionfasse al posto di kilian murphy sarei molto felice poi kilian murphy in open heimer è stato bravo e niente da dire se lo meriterebbe però paul giamatti ha proprio toccato emotivamente dentro di me delle corde e mi hanno fatto proprio vivere questa storia che si svolge nel new england degli anni 70 dove un professore di lettere classiche di questa accademia prestigiosa molto severo che fa studiare come pazzi i suoi alunni che invece pensa nell'ultimo giorno di scuola figuriamoci se facciamo lezioni invece in procinto di iniziare le vacanze di natale alcuni di questi studenti che non possono tornare dai genitori per i più disparati motivi dovranno restare in questa accademia e ci sarà proprio il professore paul che è interpretato da paul giamatti a far loro da supervisore soprattutto resterà questo ragazzo ribelle angus interpretato da dominic sessa che inizialmente non ne vuole sapere di restare lì però all'ultimo la madre riaccompagnata con un uomo decide di fare un viaggio e quindi lo lasciano lì come se fosse un pacco postale deve restare in questa accademia in questa in questa importante e prestigiosa scuola e si creerà un rapporto con il professore sempre più intenso quei due che all'inizio sembravano così opposti quei due che sembravano così diversi forse sono molto vicini sotto certi punti di vista e quindi il film con questa fotografia molto bella molto calda color pastello ci accompagna in quella new england degli anni 70 ma è un viaggio di crescita è un viaggio quasi sotto certi punti di vista di un viaggio che porta a cambiare i nostri protagonisti quindi non solo il ragazzo avrà tanto da imparare dal professore ma anche quel professore che sembra così sicuro nella sua severità avrà tanto da apprendere da quel ragazzo un po scapestrato ma molto intelligente e sotto sotto buono e con un cuore per poi capire anche i motivi per cui in certi momenti può sembrare così irascibile quindi the old over selezione di vita è un film che fa bene che fa proprio bene allo spettatore anche qua forse non da oscar però effettivamente è un film che mi è piaciuto è proprio un bel film per dire mi rivedrei più volte questo rispetto a un openheimer che è stato acclamato come se fosse il filmone dei tempi ed invece sinceramente il cuore mi è scoppiato più con the old over selezione di vita che con la bomba di oppi oppi siamo arrivati al podio e ho scelto di mettere al terzo posto medaglia di bronzo la zona di interesse di jonathan glazer che questo sì che è un film da oscar una pellicola non per tutti sicuramente divisiva molto forte ma che racconta la vita o perlomeno una parte della vita di rudolf hub che era il comandante del campo di concentramento di auswitz ma piuttosto che raccontare la storia come in molti altri film dedicati all'olocausto ai campi di concentramento in cui esplicitamente si fanno vedere tutti i soprusi nei confronti degli ebrei si sceglie di parlare di questo aspetto ma da un punto di vista differente quello della famiglia del comandante e del comandante una volta che ritorna dai campi praticamente senza rivelarvi più di tanto però per chi non avesse visto il film si segue la storia di questo comandante che vive proprio al vicino ai campi di sterminio di auschwitz quindi lui finisce il suo lavoro e arriva a casa noi non vediamo mai quel che succede nei campi ma sentiamo i suoni quindi magari mentre la moglie si sta provando una pelliccia sentiamo degli spari in sottofondo sentiamo urlare vediamo in continuazione il fumo che esce che bruciava gli ebrei ma nel frattempo vediamo i bambini giocare quindi c'è questo contrasto sul non far vedere ma quel non far vedere ti distrugge perché è molto più forte di tante scene che esplicitamente invece potrebbero mostrarti le persone uccise poi ci mancherebbe ne ho sentito parlare come di un capolavoro per me schinderlist è imbattibile cioè steven spilberg non si tocca però sicuramente jonathan glazer che vincerà con la zona di interesse come miglior film internazionale questo già ve lo dico ma lo sapete anche voi fa un film disturbante con un finale che non voglio rivelarvi per chi ancora non l'avesse visto ma che gioca con lo scorrere del tempo e cioè più che altro fa crea un effetto veramente forte il mettere vicine due situazioni senza che da un lato si capisca quel che sta succedendo dall'altro cioè vedere una donna che si prova una pellice nel frattempo fuori stanno uccidendo bruciando stanno facendo e poi vedere il marito che entra nei campi di concentramento fa tutto quel che deve fare esce torna a casa e prende il tè con la moglie pensa ai fiori cioè è un film che proprio parla della banalità del male cioè come può la stessa persona che prima ti uccideva curare i fiori e poi con una noscialanza incredibile salire al piano di sopra parlare con gli altri gerarchi nazisti e iniziare a parlare ma sì allora come lo sviluppiamo il forno crematorio perché qui potrebbero entrarci tot persone però cioè come se parlasse di fare che ne so un barbecue in giardino no quindi la zona di interesse è un film che gioca poi anche con la fotografia che gioca con il suono infatti il suono è straordinario e capisco perché potrebbe vincere al posto di openheimer presentato in concorso anche questo al festival di can 2023 dove poi ha vinto anatomia di una caduta di justin triè però per me la zona di interesse è superiore e niente quindi si merita la terza posizione perché è un film molto forte molto ben interpretato dove fra l'altro a proposito di anatomia di una caduta anche qua torna sandra sandra juller che interpreta la moglie di rudolf hobb quindi terzo posto la zona di interesse ed eccoci al secondo posto io già qua sento l'eco dei vostri giudizi negativi nei miei confronti mentre sto dicendo questa cosa ma barbie di greta gerwig che per me veramente avrebbe dovuto anche avrebbe potuto anche vincere l'oscar come miglior film si merita la medaglia d'argento è veramente cioè tra barbie openheimer io scelgo mille volte barbie ma so di essere in minoranza so di essere una pecora nera barbie a me non solo ha divertito ma greta gerwig con quel film di cui parlerò poco adesso perché vi ho sfrantumato i testicoli per quante volte ne ho parlato ecco greta gerwig continua il suo lavoro di analisi della donna nella società dopo ladybird dopo piccole donne anche con barbie continua a mostrare il ruolo della donna nella società e lo fa attraverso la bambola per eccellenza che è anche simbolo di capitalismo che per alcuni può essere anche un simbolo negativo e non solo positivo ecco secondo me oltre alla bravura immensa di margo robbie oltre alla bravura di ryan gosling barbie è un film che può far divertire il più piccolo che magari si ritrova di fronte a queste situazioni con le scenografie così kitsch con questo mondo di barbie land così particolare sopra le righe poi oltre a far divertire quel bambino che ovviamente è difficile che capisca ogni sottotesto può far riflettere l'adulto riflettere l'adulto perché si vuol parlare attraverso la barbie quindi non attraverso una persona a casa a caso si vuol parlare del patriarcato che ha attanagliato e che spesso attanagli ancora la nostra società perché quando barbie da barbie land dove è la regina dove tutti la bramano dove tutti la desiderano dove tutti fanno quel che lei vuole quando barbie si ritrova nella nostra società capisce che le cose sono diverse però mi piace come greta gerwig mostra proprio il cammino di questa bambola umana che si ritrova in una società dove le donne non hanno le stesse facoltà degli uomini dove a capo delle società delle aziende sulla vetta di tutto spunta sempre l'uomo che domine quindi la donna che si sente usata che si sente manipolata la donna che si sente offesa però mi piace perché al contempo greta gerwig e questo lo voglio dire perché c'è chi giudica il film contro tutti i maschi cosa assolutamente non vera perché ad un certo punto barbie si rende conto che quella società dove domina il maschio non è così diversa dalla società di barbie land dove domina la donna quindi bisognerebbe trovare un equilibrio ed il film punta su questo senza fare spoiler per chi ancora non l'ha visto ma il film punta sulla ricerca di un determinato equilibrio che è cinico è brutto e feroce da dire fino a che le cose non cambieranno drasticamente forse non troveremo mai e anzi potrebbe essere oggettiva come cosa perché bisognerebbe riformare tutto alla base ed è una cosa impossibile perché il film come soprattutto ci spiega nel finale vorrebbe parlare di un cambiamento ma che l'essere umano non è disposto a fare a meno che non faccia dei sacrifici sicuramente c'è la volontà di mostrare quanto una donna possa essere libera di fare delle scelte quindi non voglio rivelarvi il finale ma per chi il film l'ha visto saprà già a cosa mi riferisco sapendo quel che fa barbie in un determinato momento sapendo dove si reca barbie in un determinato momento anche lì una una scelta che ha fatto discutere per me incompresa dal pubblico perché va bene ho fatto un video apposito sul canale l'estate scorsa però secondo me barbie è un film che sicuramente ha i suoi difetti sicuramente può essere di da scalico sicuramente può essere molto anche pieno di dialoghi che portano lo spettatore quasi imboccato a comprendere le cose però ricordiamoci che questa cosa è voluta perché barbie rappresenta il bambolotto superficiale per eccellenza cioè barbie non ha una struttura di formamentis proprio in grado di conoscere il mondo le situazioni che la circondano cioè barbie è un giocattolo che deve capire deve imparare deve scoprire deve scovare tutto quel che lo circonda quindi è sensata come cosa quando vediamo a barbie land la superficialità che aleggia in quel mondo beh già questa è la risposta al didascalismo che è opportuno all'interno del film perché la bambola deve apprendere la bambola deve imparare cioè la bambola sa fare solo quelle due cose cioè sono dei giocattoli nati così c'è la barbie che cucina c'è la barbie che fa il bagno c'è la barbie con la borsetta cioè non ci sono cose oltre a quelle la barbie le deve apprendere le apprenderà nella nostra società quindi tutte quelle cose che possono sembrare didascali che sono invece intelligenti ai fini della trama sarebbe stato assurdo se la barbie fosse stata intelligente fin dall'inizio no comunque ne ho parlato fin troppo barbie a me è piaciuto tantissimo ho già il mio bel 4k rispetto a openheimer che ancora non ho acquistato e niente quindi secondo posto medaglia d'argento per barbie e se veramente ci fosse un colpo di scena e vincesse non accadrà mai però io godo in cirillico primo posto squillino le trombe trombino le squillo ebbè killers of the flower moon del maestro martin scorsese dura 206 minuti e l'avrei rivisto tre volte di fila secondo me è un film che nuovamente dimostra tutta la bravura di uno dei più grandi registi della storia del cinema che abbiamo mi dispiace che in tanti non lo abbiano apprezzato quanto per me avrebbe meritato però il mondo è bello perché è vario sicuramente killers of the flower moon mi ha incantato per la messa in scena c'è una profondità di campo in quel film che mentre ero in sala veramente cioè vedere killers of the flower moon in televisione su qualsiasi piattaforma è proprio un'offesa nei confronti della pura arte oltre alle eccellenti interpretazioni da leonardo dicaprio a robert de nero lily gladstone che presumibilmente vincerà jesse plemons brandon fraser e chi più ne ha più ne metta è proprio bella la storia e come martin scorsese la racconta cioè si ritorna negli anni venti in oklaoma c'è la nazione degli osage che scoprono che sottoterra c'è un giacimento di petrolio infinito e che può far arricchire la popolazione può far arricchire il popolo ovviamente diventano il popolo più ricco del mondo ecco che allora arrivano i furboni gli arrampicatori sociali coloro che vogliono sposare le ragazze del posto perché così almeno diventerebbero padroni di quel petrolio ma per diventare padroni le donne che sono in possesso di questo giacimento di petrolio di questa parte di petrolio devono morire perché se muoiono poi tutto passa a me misteriosamente proprio quando si scopre questa cosa iniziano a morire delle persone cioè veramente perché iniziano a morire perché tutti si vogliono arricchire con il petrolio bisogna trovare però come è iniziata questa cosa chi è il killer cioè è un film che poi non vi voglio rivelare come si sviluppa ma che va avanti a effetto proprio scatole cinesi matrioska sempre più scopriamo qualcosa tanti indizi poi noi spettatori sappiamo già come stanno le cose però non sappiamo come si svilupperanno ed è questo il bello è questo il bello perché forse chi all'inizio è lì solamente per approfittarsi della donna che poi dovrebbe morire si innamora e quindi se si innamora da che parte sto della donna che dovrei uccidere per per poi arricchirmi oppure dalla parte di chi già ha ideato tutto questo piano contro la nazione degli osage c'è proprio la poetica di martin scorsese cioè questo film è figlio di tutto quel cinema che parte con man streets e poi quei bravi ragazzi e poi casinò cioè è un film che sprizza così meraviglia da ogni frame anche nei momenti più lenti anche nei momenti più anche in quelli senza dialogo perché il film comunica tantissimo anche solo attraverso il silenzio attraverso la comunicazione non verbale poi a livello fotografico a livello di resa visiva a livello di interpretazioni a livello di di costumi a livello di scenografia killers of the flower moon distinto già mi verrebbe da considerarlo un capolavoro ma poi ne riparleremo fra qualche anno perché sarebbe forse troppo eccessivo definirlo tale già adesso ma sicuramente se io dovessi dire quale film se mi dovessero chiedere paolo quale film vuoi che vinca gli oscar io direi questo mi sono piaciuti e gli altri ve l'ho detto tranne past lives l'unico che ho bocciato ma se lo mettiamo a paragone anche con barbie che ho amato con la zona di interesse con the old overs con maestro con openheimer tanti hanno messo al primo posto openheimer vabbè contenti voi tenetevelo pure io mi tengo scorsese con american fiction con anatomia di una caduta con povere creature e con lo stesso past lives qua parliamo veramente della grandiosità cinematografica per eccellenza qua parliamo veramente di un film che fa pensare che fa riflettere poi capirei non per forza deve vincere il film migliore agli oscar e questa è una cosa che ho sempre detto e che continuo a dire cioè se vincesse barbie che è inferiore a killers of the flower moon lo capisco lo capirei perché comunque anche barbie che è inferiore per me ha dei messaggi importanti cari all'academy quindi va bene poi del resto quante volte non hanno vinto i film più riusciti migliori che poi migliori per chi per me per te cioè non c'è un'oggettività in questo però quante volte veniamo dall'anno scorso in cui ha vinto everything everywhere ho letto anzi cioè quest'anno anche se vincessi alle dame del castello piace fare solo quello sarebbe una cosa migliore perché lo scandalo dell'anno scorso e ho letto anche che i daniel stanno preparando il nuovo film speriamo un bene spero di amarlo questa volta perché comunque è la bellezza degli oscar anche quella di essere in disaccordo di scaldarci quindi io vi avevo promesso adesso che è finito il mio il mio video di dirvi quali avrei lasciato cioè per me sarebbe stato un concorso molto più affiatato se avessero lasciato solamente killers of the flower moon barbie la zona di interesse va bene openheimer e povere creature diciamo povere creature per il tema che tratta anzi sarebbe stato interessante perché se vogliamo barbie e povere creature parlano della stessa cosa solo che barbie secondo me lo fa meglio perché in povere creature alla quinta volta in cui emma stone si fa sbattere su e gioco ho detto ho capito che è libera ho capito che giustamente vuol fare sesso però fammi vedere anche altro invece almeno in barbie c'è una costruzione secondo me più riuscita ma so di essere in minoranza anche qua rispetto a povere creature che è il minore di l'antimos a mio avviso ragazzi vi saluto vi chiedo di farmi sapere la vostra qua sotto nella sezione commenti così almeno ne possiamo discutere se anche voi fate la vostra classifica la leggerò volentieri vi ricordo che nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale che se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana viva gli oscar un abbraccione sempre bella pensarla è sempre bello pensarla diversamente quindi mi raccomando commenti pacati e discutiamone con tranquillità viva il cinema il cinema il cinema il cinema